siamo con giovanna cacciatori presidente di cna unione benessere sanità bologna parliamo di una petizione che sta facendo l'unione la libertà di scegliere l'acconciatore l'estetista e il trattatore di fiducia e si stanno raccogliendo firme perché che cosa qual è il significato di questa petizione allora noi chiediamo l'autorizzazione da parte dell'autorità a far venire i nostri clienti dei comuni non di residenza infatti in zona arancione noi possiamo lavorare ma con le limitazioni della dell'entrata dei clienti possono venire soli clienti residenti nel nostro comune però ci sono delle attività tipo la mia o nella mia categoria io faccio parte dei tatuatori dove sono servizi che non sono costanti tutte le settimane vengono una tantum e la maggior parte di quelli 60 per cento sono clienti che vengono da altri comuni e questo comporta ovviamente un grosso danno alle nostre attività perché spieghiamo adesso siamo in zona gialla il problema non si pone ma se dovessimo tornare in zona arancione noi qui siamo per esempio a dozzano e qui non potrebbero venire come dire i tuoi clienti da bologna o da castelmaggiore da casalecchio da nessun altra da nessun altro comune e quindi diciamo il tuo cliente che vuole venire da te perché ha fiducia in te non lo può fare quindi noi chiediamo con questa petizione la libertà appunto di poter scegliere proprio operatore di fiducia perché è un rapporto di fiduciario il fatto di recarsi presso un tatuatore sono servizi che rimangono per tutta la vita per cui uno non si rivolge al primo che capita o perché più vicino o che nessuno nel proprio comune di residenza soprattutto per questo settore dopo ci sono anche altri settori come i parrucchieri e gli estetisti che anche loro hanno una clientela che si basa sul rapporto di fiducia e oltretutto anche su pacchetti venduti percorsi di laser piuttosto che altri tipi di servizi dove è prevista una un'azione continua per poter arrivare a un risultato concreto per cui il problema è che spendono spendono delle cifre anche altre per poter poi vedere vanificato il risultato ma se qualcuno dice si rischia di creare assembramento dal conciatore o dall'estetista del tatuatore se c'è questa diciamo libertà di passare da un comune all'altro voi cosa rispondete noi rispondiamo che ci sembra un sogno perché assolutamente da quando è allora già le nostre attività si basano sul rispetto delle norme igieniche in ultima da quando c'è il covid le restrizioni che ci sono stati e tutti i dispositivi ai quali noi ci siamo adeguati prevedono l'entrata di una sola persona in cabina con il tatuatore o in cabina con l'estetista e nei parrucchieri hanno distanziato le poltrone insomma c'è stato un cambio di gestione della della clientela del numero della clientela per cui l'assemblamento non è certo sicuramente all'interno delle nostre attività mentre invece c'è un calo di diciamo pur essendo sempre stati aperti in zona arancione zona gialla però questo ha portato una diminuzione diciamo di clientela questa limitazione certo assolutamente nella mia categoria è stato registrato un calo del 60 per cento e nella categoria invece dell'estetica dell'acconciatura da un 35 40 per cento in meno già vorrei anche sottolineare questa cosa che già è il periodo che a livello economico le persone stanno anche più attenti a spendere per cui questi sono servizi alla persona che magari ci sono delle cose magari più importanti danno danno una un'importanza diversa diciamo e quindi c'è il potere d'acquisto già era calato di suo con le restrizioni delle zone arancioni questo proprio ci mette capo il problema è che ho sentito tante imprese che tanti stanno pensando alla chiusura tanti colleghi stanno pensando alla chiusura non ce la fanno le partite ricordiamoci che i nostri servizi si sono servizi alla persona ma sono delle imprese sono delle partite iva paghiamo le tasse noi siamo veramente molto 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 preoccupati e quindi noi invitiamo ad andare sul sito www.bo.cna.it dove ci si può aderire a questa iniziativa oppure andare dal proprio conciatore estetista e traduttore di fiducia e firmare la petizione e firmare la petizione si nome e cognome la data di nascita e la firma insomma grazie e in bocca al lupo grazie grazie